Io sono svegliata di notte dal passaggio dei treni, non solo quello, la linea passa molto vicino alle abitazioni e quindi tutto questo viene ad essere modificato, quindi il giardino si sfrutta in un certo modo, il riposo notturno non è sempre tranquillo e d'estate non si può dormire con le finestre aperte. I residenti lo segnalano da tempo, il rumore dei treni che passano in via Friburgo non permette nemmeno di chiacchierare in giardino, l'amministrazione ha quindi deciso di intervenire installando e sostituendo le barriere fonoassorbenti. Sul lato San Lazzaro risaniamo la situazione attuale, ovvero smontiamo, eliminiamo le barriere esistenti e ne ricostruiamo di nuove, molto simili ma più alte, in modo da proteggere meglio le abitazioni del quartiere di San Lazzaro. Mentre sul lato Stanga attualmente non c'è protezione, le barriere non esistono, anche i danni ce le stanno chiedendo, con lo stesso intervento realizzeremo delle nuove barriere. Dal lato di San Lazzaro le barriere saranno alte 4 metri, mentre dal lato Stanga raggiungeranno anche gli 8 metri. La sostituzione delle barriere esistenti inizierà a giorni e costerà alle casse di Palazzo Moroni circa 250 mila euro. In questi giorni partiranno anche i lavori di progettazione per le protezioni del lato Stanga, i cui lavori, si stima, inizieranno a fine gennaio. Una conquista per i residenti che però restano sentinelle in un quartiere che è cambiato e cambierà velocemente. Le barriere acustiche in via Friburgo sono un piccolo tassello di quello che i residenti di quell'area a ridosso, i primi a lamentare questi riflessi negativi, chiedono. Ma c'è molto da fare, chiederemo altre cose all'amministrazione.